La cosa che però tanti non capiscono è che io ho sfruttato a mio favore, in realtà, che è quello che penso uno dei compadenti più importanti che mi abbia portato a raggiungere questi risultati, è il fatto che non è tanto il desiderio di raggiungere qualcosa, perché poi ti rendi conto che quando tu desideri qualcosa, quando lo puoi ottenere, sei una persona completamente diversa rispetto a quella che l'ha desiderato, e quindi non te ne frega più niente. Io desideravo da Lamborghini l'Urus, per dire, è biaggiare in Lamborghini, era la mia macchina preferita, tutto. Poi quando la potevo permettere non ho detto, ma cosa me la faccio fare? Piuttosto investire in appartamenti nel momento meglio. Perché? Perché quando io mi sono messo quel desiderio, ero una persona completamente diversa rispetto a quando me la potevo permettere. Perché? Perché per raggiungere certi risultati devi cambiare come persona. Cambiando come persona, poi i tuoi desideri cambiano, le tue priorità cambiano, e quindi penso che il desiderio non sia una motivazione che possa durare per tanto tempo. Perché? Perché una volta che sei vicino, o anche se non riesci a ridurlo, ma sei vicino a poterlo raggiungere, il desiderio, non vale più niente, perché funziona così la natura umana. Grazie. Grazie. Grazie.